Sting torna in Italia con tre nuovi appuntamenti del 2023. L'undici luglio sarà in piazza Sordello a Mantua, il dodici luglio al Sonic Park Stupinigi di Michelino Torino e il quattordici luglio all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Si tratta di un'imperdibile occasione per ascoltare uno degli artisti più distintivi e influenti al mondo. My Songs è uno spettacolo dinamico e divertente che si concentra sulle canzoni più amate, scritte e cantate dall'artista durante la sua prolifica carriera come solista e come frontman dei Paulista. Durante il tour Sting suonerà come accompagnato dalla sua band. Grazie per la visione! Grazie per la visione!